Da Sephora non passa giorno senza stupirsi e innamorarsi dei nuovi e pratici prodotti di bellezza. Per scoprire per prima quali sono le novità della stagione, ecco un elenco di quattro prodotti della linea Hot Now, selezionati dai nostri esperti di bellezza. Una sorprendente gamma di prodotti funzionali ed essenziali. Dite addio alle occhiaie grazie a Fake Up, l'ultimo arrivato in casa Benefit, prodotto prodigioso che fa anche bene alla pelle. A vederlo sembra un rossetto, ma in realtà si tratta di uno stick miracoloso che racchiude due prodotti in uno, al centro il correttore e intorno un balsamo idratante. È lo stick da portare sempre con sé, per nascondere le occhiaie, mascherare la stanchezza e illuminare lo sguardo. Lui nel frattempo lavora per voi, idratando il contorno a occhi. Bye bye fatica! Volete una pelle levigata e luminosa? Dr. Brent lancia un prodotto rivoluzionario a base di rubini e retinolo, per aiutare a ridurre le rughe e i segni d'espressione e donare luminosità al viso. D'altronde, quando la tecnologia viene associata alle pietre preziose, il risultato non può che essere brillante. Bella al naturale! Era questa la promessa fatta dalle due Naked Palette di Urban Decay. Il brand americano torna con una mini palette occhi, in versione Pocket. Naked Basics non ha niente da invidiare a una palette più grande e, in più, può seguirvi ovunque. Contiene sei tonalità di ombretti, indispensabili per realizzare un trucco effetto nude o un look opaco, più elaborato. Un must-have per essere sempre al top in ogni occasione. A mezzanotte tutto è concesso. E allora, fuori le unghie! Il prodotto del momento è il kit Bling It on Midnight di Nails Ink. Primo, stendere uno strato di smalto blu notte. Secondo, con l'aiuto dell'applicatore, far aderire il glitter. Terzo, stendere il top coat, in modo da proteggere la base. Il risultato? Uno smalto dell'effetto brillante e resistente. Da Sephora trovi solo i migliori prodotti di bellezza. Vieni a scoprirli nel punto vendita più vicino a te.